Hallo Manny Klein, un willkommen wieder auf meinem YouTube-kanal. Ciao grandi piccini, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Adesso andiamo avanti con l'articolo, l'ultimo, che è das. Sono neutri i colori, das grü, das kelp, das schwarz, gli elementi chimici bambini anche. E quali sono das Uran, das Helium, das Gold, das Silber, lesen. Quindi vedete, per esempio das Metje, vedete il finale? C, H, N, das Metje, oppure lei, das Kindlein. Bene, poi c'è ancora cosa che termine in UM, das Museum, das Publicum, das Ultimatum. E poi, in l'ultimo suffisso, e per un ultimo suffisso, MENT, das Parlament, das Instrument. E poi, O, das Auto, das Kino, das Erlebnis. Bambini, qualche articolo un po' più lungo, qualche articolo un po' più breve, più difficile, ma l'importante è esercitarci. Quindi insieme. Ci ritroviamo sempre, ricordatevi, sulla mia pagina Facebook, dove ci esercitiamo insieme, ci sono le curiosità. Seguite quindi la vostra tata, mettete un bel mi piace, vi aspetto sul mio canale YouTube, dove troverete quindi anche gli altri video per fare dei ripassi, e vi aspetto anche su Instagram. Ricordatevi sempre che la vostra tata Dolce vi vuole bene. Ciao, poi, c'è!